Dal 65esimo universale dell'incoronazione di Maria Vedete guardando la statua di cui celebriamo i 65 anni dell'incoronazione si percepisce una fatica anche fisica nel vivere il momento della passione della morte del figlio La pietra preziosa, l'oggetto più bello, sicuramente l'immagine più bella che la vostra comunità conserva Il ripudio della violenza non può che essere il successo per giungere alla gioia e all'incoronazione finale La pietra preziosa, l'oggetto più bella, sicuramente l'immagine più bella, sicuramente l'immagine più bella La pietra preziosa, l'oggetto più bella, sicuramente l'immagine più bella